Ben trovati amici del Centrometro Italiano. Irruzione fredda sulla nostra penisola con temperature in drastico calo ma soprattutto neve fino a bassa quota. Le regioni meridionali e quelle adriatiche saranno le più interessate dai fenomeni ma non mancherà qualche nevicata fino al fondo valle specie sull'Alto Adige. Giovedì 10 gennaio i fiocchi potranno spingersi fino a 100 200 metri soprattutto su Marche e Abruzzo mentre tra Molise, Puglia e Basilicata ci attendiamo nevicate fino a 200-500 metri. Qualche fiocco non mancherà anche sulle zone interne di Sicilia e Calabria oltre i 500-800 metri. Urbino, Macerata, Teramo, L'Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna potrebbero essere imbiancate quindi con la neve che continuerà a cadere anche venerdì 11. Sono previste sempre nevicate a quote basse prima che i fenomeni vadano a desaurirsi in serata. Seguite quindi tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Metitaliano!